Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti a tutti voi cari telespettatori di Fanno TV. Oggi è lunedì 21 giugno 2021, il 21 ci indica che siamo entrati ufficialmente nell'estate e lo abbiamo sentito anche e soprattutto dalle temperature che vedremo tra un istante e comunque iniziamo questa nuova settimana, siamo in zona bianca, insomma tanti inizi oggi, tante cose nuove tra virgolette. Allora partiamo dal santo del giorno che invece è un santo che conosciamo bene, San Luigi Gonzaga. Il sole è sorto alle 5.26 e tramonterà tre minuti prima delle nove di questa sera. Dicevamo del caldo intenso di questi giorni ma dobbiamo dire che questa sarà una settimana da zona bianca ma da bollino rosso perché saremo interessati a questo caldo intenso come titola. In grafica trebimeteo.com 38-40 gradi, soba canicola africana per giorni, caldo molto intenso al sud con 40 gradi, settimana estrema ma c'è anche il rischio di grandi nelubifragio invece al nord. L'Italia questa mattina c'è una nuvoletta fantuzziana un po' sulla nostra provincia come vedete qua, credo che sia già passata anche se c'è un po' di nuvole, ci sono ancora un po' di nuvole sulla provincia pesarese. Davo un'occhiata al radar prima di iniziare questo collegamento, questa diretta ma vediamo ecco queste sono le marche questa mattina, nel pomeriggio un po' di nuvole. Vedete la giornata di domani ancora tanto sole, ecco insomma praticamente siamo nel cuore, stiamo entrando nel cuore dell'estate insomma. Se questa è la premessa insomma non oso pensare a cosa sarà luglio ed agosto ma va bene perché siamo in estate e non c'è problema. Infatti iniziamo questa nuova settimana con tante cose nuove e anche con un collegamento nuovo perché una spiaggia nuova ci attende ovvero quella di Bagni Maurizio dove c'è collegato con noi. Buongiorno per il suo debutto, il nostro bagnino che ci terrà compagnia per tutta la settimana che è Nicolò. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora spiegaci, raccontaci in quale punto della costa adriatica marchigiana ci troviamo. Intanto siamo a Fano. Siamo a Fano, zona Sassonia, siamo Bagni Maurizio, quindi siamo vicino all'anfiteatro Rastat, dietro l'hotel Cristallo all'incirca. Ecco allora se ti puoi muovere un pochettino con il tuo cellulare, la linea vedo è molto buona, si vede molto bene, ecco vedete là c'è l'afiteatro, questo è lo scenario che si presenta stamattina, questo splendido mare. Ecco qui l'acqua com'è, profonda oppure si tocca come si dice no? Allora, si riesce a camminare comunque, come vedete anche laggiù, perché adesso con le scogliere piano piano si abbassa un po', però poi dopo pochi metri comunque è subito alta l'acqua, tanto siamo alla Sassonia. E' una caratteristica della spiaggia di Sassonia, certo, ovviamente come dice il nome, sotto i piedi ci sono i sassi, quindi non c'è la sabbia, questo è importante. Ci sono i sassi e c'è l'acqua alta. E c'è l'acqua alta, quindi per chi ama non fare i tuffi facendo prima un chilometro di corsa dall'ombrellone fino all'acqua alta, ecco qui si fa qualche metro e poi si va tranquillamente a galleggiare. Allora, quanti ombrelloni, vedo ancora sono chiusi, quanti ne hai? Sono all'incirca sui 250. Bene, ultima domanda, poi ti saluto. Che tempo farà oggi? Ma questa è la domanda di rito, ma so già la risposta, la sappiamo già. Beh, oggi dai un bel tempo, c'è un po' di foschia perché comunque c'è tanta umidità come nei giorni scorsi e c'è un gran caldo che ci accompagnerà. Bene, allora grazie Nicolò, noi ci vediamo domani mattina, buona giornata e soprattutto buon lavoro. Va bene, buona giornata anche a voi. Allora, i giornali, il Corriere Adriatico, edizione di Pesaro. La notizia tragica con cui apre il giornale, sia il Corriere che il Corriere, è quella che riguarda la morte di un poliziotto. La morte di un poliziotto a causa di un incidente stradale avvenuto nell'entroterra pesarese con lo scooter. Il titolo, la fotonotizia, anzi, schianto in scooter, muore un poliziotto, incidente mortale a Dabbadia di Naro. Siamo Cino Cagli, un motociclista di 45 anni, poliziotto pesarese, morto dopo uno schianto in scooter contro un'auto. Grave la moglie. L'apertura a baby accessi a Sottomonte. Nell'ultimo sabato di coprifuoco, centinaia di ragazzini assiepati tra la spiaggia e la pista ciclabile. Assembramenti e musica troppo alta, controllate e sanzionate in serata anche locali in zona mare. Poi c'è un'altra notizia, sempre in prima sul Corriere, un salvataggio avvenuto sempre nel pomeriggio di ieri. Un'escursionista che è finita nel diruppo per 50 metri, lo vedremo tra poco. Poi sempre sul Corriere di oggi, turismo, le idee per agganciare le prenotazioni. La CNA riparte dalla riconferma del segretario e poi da Fano sul biodigestore, scontro economico per la redditività. Finisce il sogno di essere promossi in Serie D del Fossombrone. Un Fossombrone battuto 1-0, sfuma su rigore fallito da Procacci e sulla rovesciata di Pagliari allo scadere. Il sogno del Fossombrone di volare in Serie D. Il Carlino, la tragedia del poliziotto, fotonotizia, Samuele Santi tampona un'auto e muore in sella alla sua Yamaha. Il luogo è la vittima, il luogo lo vedete in questa maxifoto. Lui 44 anni, poliziotto della Polstrada di Pesaro. Zona Mare invece, stangata per tre locali smultati dalla Polizia Municipale. Due per omessa relazione sulla musica, l'altro per assembramento di ragazzini. Poi una polemica che vedremo tra poco tra la Curia di Pesaro e la Pia Unione che organizza la Festa del Carmine. L'Itetra, chiesa appunto della Pia Unione. Poi Acquaroli che sul nuovo ospedale risponde al sitaco di Pesaro Matteo Ricci. Acquaroli dice, nuovo ospedale, la Regione ha deciso. Disfatta Rossi, senza risultati, non ha senso, dice il campione di MotoGP. Continuare, Nardi, un talento che sboccia, trionfo all'ITF di Genova. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico. Ma ripartiamo dalla tragedia che ha colpito la Polizia Stradale di Pesaro e tutti i colleghi per le forze dell'ordine della provincia. Schianto in scooter contro un'auto, muore un poliziotto, grave la moglie, l'incidente in tarda mattinata sulla Pecchiese. Samuele Santi, 45 anni ed agosto, lascia un figlio adolescente a 16 anni. Lo shock dei colleghi. Per noi è un dolore, abbiamo perso un amico e una persona speciale. Pare, come scrive Angelo Parlani questa mattina, che sia stato lo scooter a tamponare per causa, ancora in corso di accertamento, l'auto che lo stava precedendo nella stessa direzione di marcia. A grandi passi verso quota zero, se hai soltanto i ricoveri in rianimazione, i nuovi positivi sono appena 15. Terapie intensive aperte solo a Torrette e a Pesaro, ieri 4 sintomatici. Gli ospiti nelle RSA sono a quota 59, tra Campofilone, Fossombrone e Adancora. Ma intanto l'esperto, il sottosegretario della Salute Sileri, dice l'eterologa è dimostrata l'efficienza e poi parla di un'eventuale nuova ondata che lui dice per esserci servirebbe un altro virus oppure lo stesso virus che circola ora ma talmente mutato dai luderi vaccini che sono stati fatti e quindi la vedo poco verosimile come possibilità. Dunque Sileri esclude una nuova ondata ad ottobre, vedo difficile ondata come quella di ottobre e febbraio ed è cambiata la popolazione che è sempre più vaccinata. Mentre sul carlino nazionale si parla delle mascherine perché adesso resta il problema delle mascherine all'aperto. Sapete che al momento è per ora obbligatorio fino al 15 di luglio ma oggi il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà perché su pressing della politica della destra soprattutto e soprattutto per quanto riguarda i numeri dei contagi, il vistoso calo, quindi per questi due fattori il CTS oggi potrebbe decidere di anticipare queste riaperture, scusate questo divieto di obbligo di tenere la mascherina all'aperto. L'ipotesi principale di introdurre la fine di questo obbligo è quando tutta l'Italia sarà bianca. Ora tutta l'Italia è bianca eccetto la Val d'Aosta, quindi potrebbe essere che questo divieto cada il 28 giugno prossimo. Togliendo la mascherina bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti, se non si fa parte della famiglia e andrà indossata nei luoghi a rischio assembramento. Che cosa dice invece l'infettivologo Massimo Galli, ordinario di malattie infettive dell'Università Sacco di Milano? Dice dobbiamo ricordare che la mascherina è uno strumento che serve e ci è servita. La vaccinazione ci salva dall'ospedale e dal cimitero ma non dal contagio. Avere le mascherine a disposizione quando c'è tanta gente non mi è un gran sacrificio, ci aiuta a tenere bassa la circolazione del virus. Ora è chiaro che a questo punto più che una legge servirebbe come sempre il buonsenso. Come dire, siamo in estate, è già un sacrificio tenere questa mascherina al volto perché si suda, perché non si respira, poi con 40 gradi è praticamente impossibile tenerla all'aperto. Non è, anche uno volendo non ce la fa. Quindi detto questo bisogna fare in modo di stare comunque distanziati e la mascherina quando si è all'aperto a quel punto non serve. Andiamo invece a vedere la pagina 9 del Corriere di questa mattina. Sottomonte, siamo quindi in Pesaro, le orde dei ragazzi assiepati tra la spiaggia e la pista ciclabile. Nell'ultimo sabato di coprifuoco multati anche dei locali in Viale Trieste. Da in escandescenza è dunque bloccato. A proposito, siamo in zona bianca, ma comunque per tutti da oggi vale la regola che non c'è più il coprifuoco, quindi siamo liberi di poter girare anche dopo la mezzanotte. E in questo articolo si parla dei controlli dell'ultimo fine settimana. Mentre la fotografia ci mostra il mondo della notte che riparte da San Marino, qui vicino. Insomma, il mondo dell'intrattenimento è ripartito dalla Repubblica di San Marino con questo primo festival musicale Covid Free, da un anno e mezzo a questa parte, che ha trasformato nella notte tra sabato e domenica l'Arena Eventi e il Showting di San Marino appunto in una grande discoteca a cielo aperto con quasi 2700 persone che hanno ballato fino alle prime luci dell'alba nel rispetto delle regole e dei protocolli previsti. Mentre sulla pagina 4 del resto del Carlino la cronaca entra di straforo nell'edicola e ruba l'incasso, ha ripulito l'esercizio di piazzale Innocenti, la rabbia del titolare Roberto Renzi che dice tiravo giù la saracinesca, rientro e apro il cassetto ed era vuoto. Quindi il tempo di fare questa operazione, cioè di abbassare la saracinesca, e qualcuno si è intrufolato e rapidamente, in modo repentino, ha preso tutti i soldi che c'erano nel cassetto, avevo venduto tutti i giornali alla gente che andava al mare, non si può, dice, lavorare così, il bottino è all'incirca di 600 euro. La CNA, l'organizzazione degli artigiani, quella di Pesaro Urbino, riparte da una conferma, ovvero la conferma di Bordoni che sarà ancora segretario. L'Assemblea invece ha eletto Michele Matteucci, nuovo presidente, Barilari ad honorem. Dunque si è conclusa con l'elezione del nuovo presidente degli organismi direttivi, l'Assemblea della CNA di Pesaro Urbino, la 22esima, nei 74 anni di storia di questa associazione, con queste conferme e con queste elezioni. Ricci chiama invece a Quaroli, risponde, parte il dialogo sul nuovo ospedale, il confronto si è aperto durante l'Assemblea provinciale della CNA, invito del primo cittadino a mettere da parte le divisioni politiche, il successore di Ceriscioli apre e dice di voler coinvolgere l'amministrazione pesarese. Dunque sull'ospedale si è tornati, questa è la buona notizia, a parlare del nuovo ospedale. Lo si è fatto nel corso di questa Assemblea della CNA, l'argomento è stato rimesso in pista dal sindaco Ricci perché in collegamento c'era il Presidente della Regione, Acquaroli, e parlando di investimenti Ricci ha detto, penso in particolare al nostro ospedale, è passato quasi un anno, non si possono ottenere risorse, quindi soldi fermi così, ed è un peccato mortale. Sul biodigestore invece a Fano, scontro economico, in gioco le risorse per il Comune. Fano chiede a Marche Multiservizi l'ingresso in Green Factory, in cambio della non belligeranza sul Gaza. Un articolo di Lorenzo Furlani, in gioco scrive, non c'è solamente il controllo dei servizi pubblici locali e quindi delle politiche di indirizzo aziendali, c'è in particolare la redditività della gestione economica del settore che sul lato fanese costituisce, attraverso gli utili e canoni riscossi, una fonte essenziale per il Comune al fine di mantenere i servizi erogati ai cittadini. Ci sono molti dati interessanti in questo articolo, per chi vuole conoscere meglio la questione. Nella trattativa come contropartita all'ingresso di Aset in Green Factory, con una nota significativa, Fano porterebbe il patto di non belligeranza sulla gara del gas del 2023 e anche la disponibilità di cedere le reti, valore di circa 15 milioni di euro, ed eventualmente a partecipare alla gara con Marche Multiservizi in un'associazione temporanea di imprese. Mentre andiamo sulla pagina 17 del Corriere, perché si parla delle presenze turistiche negli alberghi di Fano. ci sono i turisti a Fano e non solo per passaggi festival. L'assessore Lucarelli accoglie con favore la fine del coprifuoco per il rilancio del turismo e dice in sostanza che ci sono anche altre iniziative che stanno riscuotendo successo e dunque non c'è solo passaggi, perché c'è per esempio il Festival Jazz che si spalmerà dal centro storico di Fano a Lido, alla Sassonia, Torrete, Ponte Sasso dal 23 al 31 di luglio, pur ridimensionando la manifestazione. Poi c'è anche dal 28 e 29 agosto il Carnevale e poi c'è dal 10 al 12 settembre il Brodetto Fest. Insomma, vedete, ci sono delle iniziative a Fano che richiameranno sicuramente dei turisti. Mentre purtroppo verranno sacrificate, come scrive Massimo Fughetti sul Corriere di questa mattina, alcune manifestazioni, anche queste molto sentite, molto partecipate, come In Gir Per Fan, che aveva il pregio di coniugare il gusto dei prodotti tipici del territorio con la visita agli angoli più belli, successivi della città. Oltre poi a tutte le feste che venivano organizzate dai quartieri, la Sagra della Fragola e del Faggiano di Fenile, la festa della Crescia Matta a Tre Ponti, la festa del Fritto a Tombaccia, mentre il Paese dei Balocchi si trasferisce in centro storico. Questa invece è la pagina di Fano del resto del Carlino. Sapete, oggi sono gli inserti sportivi, quindi sono un po' ridimensionate le pagine di cronaca locali, ma comunque su Fano oggi il Carlino punta su Passaggi Festival. Arriva Sharon Stone, arriva, si fa per dire, perché comunque sarà in collegamento, quindi sarà solo un collegamento audio-video virtuale, e quindi Passaggi Festival, la star di Hollywood presenterà il suo libro Il Bello di Vivere Due Volte, e poi anche i calici di scienza con travasso. Insomma, anche oggi c'è un bel programma che Passaggi mette in campo. Sassonia, le auto invece ovunque, tranne che negli stalli blu, su Lungomare di Sassonia si parcheggia ovunque, pur di non occupare gli stalli blu. Ora, io sui parcheggi, su questa cosa, voglio andare un po' controcorrente. Io sono favorevole alle strisce blu, lo dico con molta sincerità, è un vantaggio poter arrivare in quella zona e non dover girare a vuoto, a vuoto, a vuoto per ore e ore. Uno arriva, va lì, paga e fa quello che deve fare. Cosa diversa, invece, fino a qualche tempo fa, con i parcheggi liberi, quando eravi lì e bisognava fare il giro del loco a 50 volte per trovare un parcheggio, perché poi c'è gente che la lascia lì per tutto il giorno, eccetera, eccetera. Ecco, siamo in una democrazia, c'è anche la democrazia del parcheggio, quindi uno paga e sta lì il tempo che deve stare, punto. Però almeno c'è la possibilità di girare, di avere il parcheggio senza dover impazzire ogni volta per trovare il parcheggio. Questo vale anche per il Lido. Bellissimo, va lì, track, parcheggio, trova sempre il posto e via. Ora, poi sui prezzi, questo è un altro discorso, non dipende, chiaramente, cioè uno decide i prezzi più giusti, insomma, non è che uno deve lucrarci troppo, insomma. Andiamo a Pesero. L'Ite Curia Pia Unione, salta la festa della Vergine. La prima ha chiesto, la Curia ha chiesto al Comune di togliere alla seconda, cioè la Pia Unione, la gestione della Chiesa del Carmine. Ora, è uno scontro che pare, secondo Roberto Damiani che scrive questo articolo, piuttosto insanabile. Praticamente, che cosa succede? Succede che questa Chiesa, lungo il corso di Pesero, è gestita da questa Pia Unione del Carmine, che è un'associazione laica, che da due secoli si occupa della gestione della Chiesa. Ed era in perfetta sintonia con la Curia, fino a quando c'era un sacerdote, Don Giuseppe Scarpetti, che faceva da ponte tra la Curia e l'associazione. Una volta che è morto Don Giuseppe, evidentemente i rapporti si sono incrinati, fino quasi a interrompersi. E qualcuno addirittura dice, ritirando fuori un vecchio articolo del nuovo amico, che questa associazione, questa Pia Unione, non è neanche cattolica, perché pare che ci sia come presidente di questa Pia Unione, Luciano Trebbi, che è ex consigliere di rifondazione comunista. Insomma, vabbè, è una situazione che chiaramente va risolta, ma non si capisce adesso bene. E quando le cose si fanno a personam, poi c'è sempre il rischio che quando la personam crepam, ciao, e poi va tutto all'aria. Ma comunque, vabbè, vedremo. Luogo da due vacanze, in una da raggiungere con un treno. qui si parla di una manifestazione, o meglio, di un articolo, di una promozione a cui rientra anche la stazione di Mondolfo, Mondolfo e Marotta, che divengono una delle mette da raggiungere in treno con questa nuova promozione turistica appunto promossa da Regione e Trenitalia. Le Marche in Treno è infatti la guida della nuova collana creata da Giunti Editore e Trenitalia dedicata alla scoperta dell'Italia a bordo dei treni regionali, riservando una speciale menzione alle 11 eroine della fa di Bruno. A Senigallia, un barista aggredito da ragazzini ubriachi mentre torna a casa in monopattino. Questa è la cronaca sulla pagina principale di Senigallia del Corriere. Prognosi di sette giorni per il 35enne, altro ride dei vandali in spiaggia, ruba una bici, denuncia e doppia multa. Mentre un 55enne si lancia dal balcone al terzo piano, ha deciso di farla finita mentre la madre era in casa. Grazie a Scapezzano, raffica d'incendio, appiccati sei roghi, i carabinieri indagano sull'azione dei Pieromani. A Urbino invece la Straducale al Via 800 ciclisti, grande festa dello sport, tutto è filato liscio. Pompili, presidente di Ciclo Ducale, dice partecipanti soddisfatti da loro, abbiamo ricevuto tanti complimenti. Si trattava di due percorsi di 85-125 chilometri. Mentre di taglio basso, la cronaca, perde il controllo della moto, il passeggero vola nel burrone. Un altro incidente con le moto. Questi fine settimana sono ormai da settimane. Siamo qui a raccontarvi di incidenti, incidenti con le moto. precipitato per 40 metri, soccorso dai vigili del fuoco con l'utilizzo dell'elicottero. Perché il passeggero è volato nel burrone. Ma qui i passeggeri erano due. Cioè praticamente ieri, intorno alle 5 e mezzo del pomeriggio, in zona Tuffo di Urbino, lungo la strada cosiddetta delle Capute, due giovani pesaresi di 25-30 anni in sella a questa motocicletta, arrivavano da Urbino, andavano, scusate, arrivavano da Urbania e stavano andando verso Urbino, a un certo punto il motociclista ha perso il controllo del mezzo. Sono caduti sull'asfalto e il passeggero è stato catapultato nel burrone a Tigua, alla strada, per circa 40 metri. Ora, il risultato qual è? Che questo ragazzo è stato poi portato all'ospedale di Ancona, mentre l'altro è tornato a casa. Insomma, nessuno è grave, però per dirvi che bisogna con queste moto fare molta attenzione. Andiamo invece, purtroppo è sfumato per il Fossombrone, il sogno di andare e di approdare in Serie D. C'è stata questa finalissima, che però purtroppo è andata male, contro il Porto d'Ascoli, che ha vinto dunque per 1-0. Così fa malissimo, titola il Carlino di oggi. Addio Serie D, errore di Paradisi per il gol vittorio di Napolano. Poi l'espulsione di Pagliardini e il rigore fallito da Procacci fa festa dunque il Porto d'Ascoli. I 600 tifosi, grazie ai ragazzi, i fucili meritavamo di più, dall'omaggio finale dei sostenitori biancazzurri all'Arabia del Tecnico, pagato caro un solo errore, gara rovinata da un'espulsione assurda. Per dirigere partite di questo tipo servono, devono mandare arbitri, molto meno permalosi. Mentre sulle due ruote, Valentino Rossi, Valentino Amaro, così non mi diverto più, titolo del Carlino, Rossi sconsolato dopo la disfatta in Germania, senza risultati, non ha senso continuare. Nella pausa estiva, deciderò che cosa fare. In Germania tiene botta solo Fenati, questo invece è il Corriere, è l'ascolano tredicesimo e appunti dopo una bella gara, male Marini, Rossi e Morbidelli nella moto GP. Chiudiamo con il Corriere Adriatico, sempre dalle pagine di Sport, tornando a Fossombrone, il Porto d'Ascoli vola in Serie D, Napolano piega il Fossombrone. Chiudiamo ricordandovi che questa sera, alle ore 21, avremo uno speciale su una mostra... No. Eccolo qua. Questa qua. È un vecchio foglio che è rimasto lì. Allora, avremo alle ore 21 uno speciale dal titolo Pesaro è pronta a rinascere sui sette anni di mandato del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Allora, a 20.30 ovviamente c'è il telegiornale Occhio alla Notizia, che come sempre vi invitiamo non solo a seguire, ma anche a realizzare con noi. In che modo? Con le semplici segnalazioni attraverso il cellulare. Il numero lo vedete sempre in sovraimpressione, 338 4968 250. e quindi grazie come sempre per il vostro aiuto, per il vostro contributo. Noi ci salutiamo qui. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.